Dramma tra Taranto e Brindisi. Al centro ancora una volta un bambino di appena 9 anni. Un figlio conteso tra due genitori la cui infanzia scorre bloccata in una ingarbugliata vicenda giudiziaria di cui si sta occupando il Tribunale dei Minori di Taranto. Non può andare a scuola il piccolo conteso perché formalmente non è ancora affidato al padre. Il giudice del Tribunale Ionico per i Minori nelle scorse settimane aveva incaricato i carabinieri di prelevare il bambino dalla casa paterna Brindisi e di riportarlo alla madre che risiede in un comune del Tarantino. I militari però non hanno trovato il piccolo in casa, il papà non lo ha affatto trovare ed è stato denunciato per inosservanza di una decisione del giudice. La vicenda intanto resta congelata in attesa che dal Tribunale arrivino nuove decisioni. Nel frattempo a pagarne le conseguenze non solo emotive ma anche di carattere pratico è proprio il piccolo che non può andare a scuola come i suoi coetanei ma è costretto a rimanere a casa. Non ha la residenza Brindisi, documento richiesto dalle segreterie scolastiche. Il nulla osta del circolo didattico del comune di residenza al momento non arriva perché la direttrice, secondo quanto affermato dal padre del bambino, ritiene che fargli cambiare scuola e compagni potrebbe turbare la sua mente. In realtà però a turbare innanzitutto il piccolo c'è proprio la separazione dei genitori. Ci sono le liti tra loro e le rivendicazioni a botta di denunce e le due versioni diverse che difendono a spada tratta. Lui dice che il piccolo non vuole stare con la mamma raccontando che lei lo avrebbe picchiato dall'altra parte la donna preferisce non parlare con nessuno troppa pubblicità sostiene e ricadrebbe in maniera negativa sul bambino. La battaglia intanto continua, una battaglia che purtroppo non è un caso isolato ma è solo una fra le tante storie che come quella dei giorni scorsi nella provincia di Padova del bimbo preso con la forza dalla polizia si regge su sofferenze troppo grandi per chi dovrebbe invece pensare solo a giocare.